Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna si segnalano codi a tratti per il traffico intenso tra Arezzo e Firenze Sud e tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma sempre per traffico intenso, rallentamenti tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Firenzola quindi siamo sulla direttissima e code a tratti tra Firenze e Impruneta in Cisare Gello. Spostandoci sulla Fipili in direzione Firenze, 2 km di coda per lavori tra Empoli ed Empoli Est, 2 km di coda per lavori anche in direzione Mare tra Scandicci e Ginestra Fiorentina. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!